Paura ieri sera a Casoria per un incendio di chiari e origini dolose che ha letteralmente distrutto un bar in via Rossini. Si tratta dell'American Bar collocato in una zona antistante, il cimitero. Le fiamme che hanno avvolto il locale in alcuni momenti hanno minacciato un'abitazione sovrastante. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco che hanno messo in campo uomini e autobotti ha scongelato ulteriori danni, anche se hanno dovuto faticare non poco per oltre un'ora per domare il rogo. Sul posto i carabinieri della compagnia di Casoria che hanno dato il via alle indagini. In un primo momento l'allarme era stato dato perché alcuni avevano sentito un'esplosione ed avevano pensato a un ordigno. Nei primi rilevi non sono state trovate, tracce di esplosivo, così come è difficile, dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco, comprendere se ci sia stata la presenza di combustibile, come per esempio benzina. Sentiti i titolari dell'esercizio commerciale dovranno anche spiegare se hanno avuto minacce estorsive. La pista del racket resta sempre quella privilegiata in queste circostanze.